Oggi per la visita è molto importante e c'è ancora lavoro da fare per la visita più grande o per la sicurezza. Noi abbiamo degli ustensili e materiali da portare e dunque c'era un pezzo per la sicurezza. Questo non è dalle ustensili, è per noi, per la sicurezza del beton. Tutto è sotto la sabbia per il servizio e il montaggio. Per mangiare cosa facevano con l'argetto? Questo è il minerale. Si può prendere e fare passaggio. Con l'argento. C'è l'argento, ma un po'. Quindi, explico rapidamente le battime. E voi potete fare passare il bloc che circola. C'è l'argetto. C'è l'argetto. C'è l'argetto. C'è l'acqua che viene e che finisce nella miniera. Era molto importante per i minatori di avere una pendenza nelle gallerie. Per l'acqua di venire... Per riscolare, perché riscolava dentro. Perché entrava dentro l'acqua. Si, l'acqua viene dalle faglie nella miniera. Con una pendenza nelle gallerie, tutta l'acqua viene fuori. Perché sennò lavoravano nell'acqua. Si, si si. Ma era anche interessante perché ci sono vagoncini per trasportare i minerali. Quando si va dentro è facile e leggero. Si può andare su. Ma dopo, quando è pieno, è più facile andare fuori con la pendenza. azzurra. Oh, c'è la 피�o. Bene. Viene l'acqua? Ma noi... Wow. Siamo in una galleria, ma qui c'è un'altra qui, perché i minatori non sapevano dove dovevano fare prove. Queste sono le gallerie di prova per cercare il minerale. Le gallerie di Proda era anche più facile scavare delle faglie della roccia, perché è più fragile. Dunque, le gallerie che sono andando a vedere, era scavata in una paglia. Ok. È grosso però. Wow. Qua c'è l'ago. Potete vedere la paglia che hanno seguiti i minatori. Ok. No, non erano piccole. Era troppo lavoro da fare con noi. Era più facile combinare i pigazzi. Wow. Dunque, loro hanno scavato le gallerie per provare il minerale. E il minerale c'è qui. Si può vedere. Questo è del minerale di piombo argentino. Ma non c'è abbastanza per usarlo. Ma loro sapevano che era delle forme come questo. Dunque si può seguire questo minerale per vedere se c'è più. Ma non c'era niente. Non era meglio qui. Dunque tutto questo era scavato per sapere che non c'è niente. Non, non. Non hai più. Non so. Non c'è più. Ma non c'è più. Si sono qui, non c'è. questo spazio non è per il piacere di scavare ma non è molto efficace dobbiamo mettere la polvere da sparo nella roccia per fare esplosione e dunque dobbiamo fare un buco prima di fare altre cose potete vedere che c'è molto più spazio qui perché c'era del minerale da prendere ho detto che il minerale fa delle cose di questo si può vedere che loro hanno seguito il filone e potete vedere come era il filone si veramente la felce non ha fatto questo è l'attentazione e soprattutto per chi non riesce 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 Grazie. 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 La roccia si è rotta e c'era una parte che è quella giù, l'altra sotto, e anche questo. Si può dire che questo è naturale. Con gli esplosivi sembra come questo, ma questa è la roccia che, lungo l'altro, ha fatto questo. Ma c'era già il minerale a questo tetto, e il minerale era come questo, e... ...tunque c'è una camera aperta qui, e un'altra con la stessa vedenza, perché era il generale. ... 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